In occasione della settimana interculturale, la classe seconda Z ha deciso di intervistare un compagno che è arrivato dal Perù. Francesco è un ragazzo molto timido, perciò con questa intervista cercheremo di conoscerlo meglio per installare con lui un rapporto migliore. Ci farebbe piacere se avvenne di più del suo viaggio, del suo paese di origine e di come vive ora in Italia. Francesco, come sei arrivato in Italia? Perché? In aereo, da Perù a Madrid, Madrid a Milano, tutto a 13 ore per restare con mia mamma. Non sconti come era la tua casa in Perù? Ci racconti come era la tua casa in Perù? De quattro piani è molto grande. Che storie ti raccontava la tua famiglia quando eri piccolo? Nessuno, per la scuola due storie, la cappuccetta roca e i tre perditos, il cappuccetto rosso e i tre porcinini. Qual è stato il primo piatto italiano che hai mangiato qui in Italia? La pizza americana, il mio piatto favorito è la pizza. Ti trovi bene in questa scuola? Bene perché ho incontrato nuovi amici. Grazie.